Salve a tutti, sono Francesco Fusillo, ringrazio il CTS De Amici per avermi invitato a questa conversazione sullo sportello ad alta tecnologia integrato del CTS Glic e dirò subito che la mia trattazione si concentra in particolare sui CTS, su una ricerca che abbiamo fatto quest'anno su tutti i CTS per capire cosa fanno, quanti sono gli operatori, le criticità e i punti di forza parlerò delle azioni del CTS, in particolare dell'azione divulgativa sui software per la disabilità in particolare quello libero, dell'idea di uno sportello ad alta specializzazione, del rapporto con i Glic, molto sfumato perché sarà approfondito poi dal professor Corradi e di un paio di idee un'equipe multidisciplinare e il piano inclusivo di classe. Ma veniamo subito all'argomento, intanto mi presento, io sono Francesco Fusillo, sono un insegnante di sostegno che ha transitato lungo tutto il periodo della 517 in poi perché sono insegnante di sostegno dal 1981 e specializzato dal 1994. Mi sono occupato all'inizio di sordità e siccome ho fatto, sono prima di tutto un perito elettrotecnico e un ingegnere mancato, pur essendomi specializzato con la tesi di neuropsichiatria, ho portato avanti parecchie idee anche sulle tecnologie, in particolare low cost, mi sono occupato di selezionare software, divulgarlo, ho ideato i tavoli interattivi, le lavagne low cost, le postazioni bifronte. Ecco, forse anche grazie a questo, alla mia passione per le tecnologie, collaboro da parecchi anni con l'Istituto delle Tecnologie Didattiche e ci occupiamo di software libero per le disabilità. Forse ecco, questa mia transito lungo un lungo periodo dentro anche il CTS da quando sono nati, può essere un contributo che aiuta la discussione di questa sera. Allora, io direi che tanto per partire noi dobbiamo ragionare da qui, ecco, dalla nostra Costituzione che per fortuna è un caposaldo di tutte le leggi. Quindi diciamo che i CTS e le azioni del sostegno si ascrivono a questo principio della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione. Diciamo che la scuola e tutto quello che ne deriva dal punto di vista legislativo parte da qui. Però ci sono vari modi per declinare questa azione. Ecco, noi, io in particolare, ma vedo anche molti CTS, si sono riferiti a questo tipo di scuola, una scuola inclusiva, una scuola un po' la da un Milani, una scuola dove tutti lavorano attorno a un tavolo. Vedo tanti sforzi anche in termini di formazione per far sì che si lavori attorno a un'idea complessiva di classe più che un'idea particolare se non le disabilità gravi. Ecco, quindi una scuola che si occupa di non essere un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Ecco, sembra una battuta ma è molto molto seria. Direi che anche questa figura, questa figura di scuola che come vediamo dal piccolo al grande al diverso è il nostro obiettivo, la nostra meta di riferimento. Vediamo intanto cosa sono questi CTS. I CTS sono un'azione 4 e 5 di un decreto del 2005, perché si era visto che l'arrivo delle tecnologie già allora aveva bisogno di qualcuno che le mettesse in moto. Quindi un sistema su tutto il territorio nazionale, e da lì partono appunto i CTS provinciali, che ottimizzi le risorse, che offre assistenza tecnica per aiutare le scuole e anche le famiglie ad utilizzare questi ausili e che garantisca una certa assistenza didattica in forma di consulenza, cosa si può fare con un ausilio, con una tecnologia che permette al ragazzino di ingranare nelle azioni di classe. Ecco, quindi anche la formazione degli operatori e la consulenza. Anche il comodato d'uso, perché i CTS hanno avuto dei finanziamenti per acquistare anche dei materiali per progetti che possano sviluppare queste azioni all'interno della classe. Quindi un grande compito con l'avvento delle tecnologie nella scuola, riferite alla disabilità, un compito importantissimo, che era quello di mettere in moto l'uso delle tecnologie nella didattica e nell'inclusione. Allora, la fotografia attuale dei CTS. Noi abbiamo fatto una ricerca con la dottoressa Ferlino dell'Istituto Nazionale delle Ricerche, io e lei abbiamo lanciato un'indagine. Hanno aderito circa l'80% dei CTS, per cui noi a marzo 2016 avevamo fotografato la situazione. Ecco, direi che era stata forse l'unica fotografia della situazione. Cosa fanno i CTS? Ecco, noi abbiamo scoperto che intanto circa un quarto degli operatori del CTS non hanno la sede nel CTS. E questo porta dalle problematiche di relazione col dirigente, di impegni, di facilità di gestione degli impegni che il CTS dovrebbe avere. Ecco, nella maggioranza dei casi, i CTS, gli operatori non hanno esonero. Lavorano, diciamo, al pomeriggio con tempo perso. Cioè, abbiamo visto quali erano gli impegni così gravosi, così importanti e per questo impegno i CTS, gli operatori, non sono né distaccati né hanno tempo, nella gran parte, da dedicare in modo specifico. Però si occupano di cose importanti. Guardate un po', il 96% la formazione in servizio degli insegnanti sulle tecnologie e sulla didattica. Consulenza, il 96% dei CTS fa consulenza alle famiglie e alle scuole. L'85% fa il comodato d'uso. Ecco, è una tessitura di rete sul territorio nazionale, vale a dire rapporti con le ASL, con le associazioni e di supporto alle famiglie. Quindi, per tutta questa operazione, diciamo, di tessitura, di ingranaggio, di messa in moto delle tecnologie inclusive nella scuola, abbiamo del personale che fa questo lavoro il pomeriggio. E da lì esce la criticità. La criticità, vale a dire che questi sono appunto i dati, i dati della nostra raccolta. Sono slide che raccontano appunto i risultati numerici, però arriviamo immediatamente alla sintesi. Allora, la sintesi dalla raccolta delle criticità è che ci vogliono almeno due operatori con semi esonero per funzionare bene. Che ci vorrebbe un personale alta dedicato a questo, che si occupa dello sbroglio burocratico, che si occupa appunto della parte amministrativa e che fossero semplificate le azioni di, per esempio, di comodato e di segreteria. Ecco, anche un regolamento per il regolamento, per il reclutamento degli operatori, perché ci sono dei contenziosi, ci sono dei disaccordi, di sapori con gli user e con i dirigenti. Chiarezza dei compiti e delle organigramma che dovrebbero avere i CTS. E una coerenza di rapporto con i centri territoriali. Non tutti i CTS hanno i centri territoriali e non tutte le regioni. L'Italia è molto diversa. Quindi è una macchina che potenzialmente ha la capacità di dare un servizio già presente e diffuso sul territorio nazionale che ha bisogno, diciamo, di un tagliando. Ecco, uno dei compiti, ah, torno a dire, il tagliando di questa macchina la rimette completamente in moto con un grande servizio e un grande opportunità. E a noi dispiace molto che nella legge delega che si sta discutendo non ci sia un'attenzione al voler rimettere in energia questo servizio provinciale. Si parla di ambiti territoriali, ma questo valore che si è costruito dal 2006 a oggi, che ha cambiato, innovato, ha creato una forza anche per le famiglie, per avere consulenza, viene disperso. Pensate un po', se non ci fossero stati i CTS, cosa avrebbe fatto il mercato con un ausilio, avrebbe invaso assolutamente la scuola perché nessuno avrebbe detto qualcosa di disinteressato alla scuola. Comprate questo piuttosto che quello, una consulenza su come gestire la didattica. Quindi, e arrivo a questa diapositiva. I CTS in questi anni sono stato un grande presidio sulla moderazione delle spese, sull'oculatezza delle spese, sul comprare cose utili alla didattica di classe, non solo di relativa ai ragazzi o disabili. Su questo però è un discorso che vedremo dopo. E hanno fatto una grande azione di divulgazione del software libero. Leggi per me, ne dico uno per la dislessia, Ara Word per la comunicazione facilitata, i programmi appunto per i dislessici. So di Linux, del quale io mi onoro di far parte del gruppo di sviluppo, software didattico per Linux, ma che adesso è software libero e va anche su Windows. Quindi un sistema operativo con software per includere i ragazzi nella didattica. non solo software specifico per gli ausili, ma software per fare scuola, per fare presentazioni, per fare video lezioni, audio lezioni per chi ha problemi di vista, per fare mappe concettuali, per gestire le lavagne interattive che permettono la stampa di quello che sta sulla lavagna, la registrazione di quello che sta sulla lavagna, per vederlo dopo. Quindi software libero, Cmap per fare le mappe. Tutto questo materiale eccezionale, di grandissimo valore, sviluppato nelle università, nei centri di ricerca. Se non ci fossero stati i CTS, nessuno sapeva che ci esistevano. E andando a vedere i siti dei CTS, si vede come si sono prodigati tutti i CTS a divulgare, a far conoscere, a formare e a mettere sullo stesso piano, perlomeno di qualità, la scelta degli insegnanti fra software proprietario e no. Con questo non vuol dire non compriamo software proprietario, vuol dire prima di fare una spesa, oculatezza, sensibilità e anche risparmio, perché risparmio significa inclusione, significa comprare un asilio in più. Ecco, in questa diapositiva ho messo appunto il Sode Linus e Easy Dida, che è l'ultimo lavoro mio, software didattico per facilitare la didattica, che funziona già da una chiavetta. Chi è interessato va sul mio sito e lo scarica, fusilorancesco.it. Ecco, il software libero, cosa ha di meglio del software proprietario per la didattica allargata di classe? A, direi fra questi valori qua, quello più importante è che può essere distribuito e quindi sviluppa la condivisione. Io libero office, lo do a tutti i ragazzini, fanno tutti la presentazione anche per il gruppo, dialogano fra di loro e la condivisione è un valore didattico. Questo permette ai ragazzi di stare insieme e fare il cooperative learning. Se avessero 5 sistemi diversi non potrebbero farlo. Quindi evitare che diventi un ostacolo le tecnologie. Questi CTS si stanno prodigando in tutti i modi per spiegarlo ed è importante, se no la tecnologia diventa un imbroglio. Qui ci sono alcuni simboli per dire di cosa parliamo. Software libero significa OpenSankoree, LibreOffice, Firefox, Gmap2, Tuxpint, software che permettono grandi azioni didattiche. E inoltre sono duraturi. I file li vedo a distanza di anni. Se una cosa è stata fatta su XP, la vedo anche su Vista, la vedo anche su Windows 10 eccetera. Provate a fare la stessa cosa col software proprietario. Qui non ho potuto neanche mettere le immagini perché sono proprietari anche quelle di questi programmi qua. Cioè se io faccio una tavola di Araward per la comunicazione facilitata, posso fare le tavolette e metterle sui tavoli dei bar come hanno fatto a Bergamo e i bambini scelgono toccando la tavoletta perché le immagini sono libere. Se la fate con un software proprietario non potete farla perché le immagini sono proprietarie. e quindi stanno sul PC che voi avete pagato la licenza. Ecco ho citato l'esperienza di Bergamo perché l'associazione industriale di Bergamo ha fatto delle tavolette illustrate per l'ordinazione dei bambini disabili. Questo è software libero. Non ha profitto alle spalle, non ha un piano industriale, vuole solo far dal bene. È chiaro che va validato. Non tutto il software libero è libero, è buono. Ma perché ci valida qualcosa noi abbiamo anche chi ci aiuta in questo. l'istituto nazionale delle ricerche che ha documentato un sacco di software ed è una potente ed eccezionale spalla dei CTS. Noi dobbiamo ringraziare appunto il dipartimento di cui Lucia Ferlino è uno dei nostri partner quotidiano perché è intervenuta a questo dipartimento con webinar, formazione, approfondimenti con la banca dati del software. Quindi i CTS accedono, possono avere informazioni da divulgare. Questa è una grande cinghia di trasmissione sulla qualità. Quindi quando si parla di eliminare CTS si elimina tutto questo. Io voglio dire si fa una ferita enorme prima di ricostruire una qualità che noi abbiamo già in mano. Cioè buttiamo via il bambino in acqua calda. Invece che fare un tagliando a una macchina che ha sei mesi, la buttiamo, ne prendiamo un'altra perché cosa possiamo permettere. Adesso parlo un po' di Sodilinux perché il mio cuore batte per il software libero di Sodilinux. Questo è un sistema operativo che si può installare su tutti i PC, allestire tutte le macchine. Non ha virus, è compatibile il software con qualsiasi sistema, Windows, Mac, XP. Noi possiamo in questo modo non solo abbassare i costi della didattica ma anche creare delle macchine con un'interfaccia modellabile al disabile che abbiamo di fronte perché l'abbiamo studiato con il dipartimento per fare in modo che questa interfaccia, che diciamo l'interfaccia standard, possa diventare l'interfaccia di un bambino disabile che ha due tastoni, tre tastoni, quattro tastoni. Possiamo regolare la frequenza di battuta, possiamo fare tavoli interattivi. Ecco, Sodilinux nasce per questo. Io colgo sempre l'occasione di richiamare questa forza, questa opportunità perché non si conosce. Ecco, una cosa che fa nel CTS è fare informazione e informazione. Se no, la fa il mercato perché ha delle persone pagate, ma chi è che fa un'informazione istituzionale di qualità disinteressata, non si prende un soldo su questa cosa. Non possiamo permettere che chi fa il divulgatore è anche quello che prescrive e vende, perché probabilmente qualche interessuccio ce l'ha. Noi non abbiamo nessun interesse. Divulghiamo materiali, diciamo, demo point di varie case, di varie istituzioni, però offriamo anche la conoscenza sul software libero, diciamo come CTS. Ecco, Sodilinux è un sistema operativo sicuro da virus, è una grande comunità collaborativa, oltre mille insegnanti che danno consigli. Ecco, ha un'olgevità di informati, è gratuito, pluripiattaforma, i software vanno bene anche per Windows e Mac, parlo di quelli della didattica normale, non i software speciali. Però la gestione della telecamera, del PC con la luce, il controllo delle tastiere e quant'altro, sono, diciamo, dei sistemi di tutto rispetto per poter validare un sistema. E quindi se facciamo una postazione per un disabile non la tocchiamo per anni, perché non ha virus, non si impianta, educhiamo la legalità perché non facciamo copie abusive e possiamo in questo modo risparmiare soldi per ausili, per altre cose. Questi sono un po' i parco software, diciamo, le passerelle didattiche che possono andare bene per tutti i sistemi operativi. Diciamo che questo è anticommerciale, quello che sto dicendo, perché vuol dire non far fare interessi alle case che vendono software che fanno appunto queste cose qua. Ma io credo che un presidio dello Stato sia la salute, la sicurezza razionale, per esempio l'aria, l'acqua e anche l'educazione, dove se c'è bisogno compriamo, ci mancherebbe, c'è necessità, ma se non c'è bisogno, perché la mia università mi ha fatto un software per leggere per i bambini con la comunicazione aumentativa, non devo nasconderlo, è un obbligo morale dire a tutti, guardate, c'è un software per la comunicazione aumentativa con 20.000 immagini gratuite che permette di comunicare dal tablet allo smartphone al pc e a trovare le stesse immagini sulle scale dell'aeroporto perché sono libere e possono essere replicate. Quindi adesso parlo di un'altra cosa, uno sportello ad alta specializzazione. Questa è un'idea che ci è avvenuta in alcuni CTS dove stiamo perdendo dei colleghi anzianetti un po' come me e gente molto formata che avrebbe tanto da dare alle nuove leve che vengono su. Allora noi lanciamo questa proposta, si costituisca al mio gruppo, un pool di formatori che travasi queste competenze sia didattiche che un po' tecnologiche, diciamo di mezzo, perché questo significa poter dare un valore aggiunto al motore dell'inclusione, perché buttare alle ortiche persone che hanno competenza, voglia di giocarsi ancora al limite della pensione, che hanno la forza di divulgare quello che sanno è un peccato. È un peccato che la nostra azienda, il nostro autore di lavoro, non riutilizzi queste competenze. Quindi un pool di competenze a disposizione e online e in presenza per la formazione dei nuovi operatori, noi chiediamo gran forza che ci sia per evitare di dover ricominciare da capo tutto. Nello Stato spesso questo succede. Questa è una proposta che noi lanciamo. Ecco, sui clic vado veloce perché il professor Corati sarà molto più esaustivo. Quello che voglio solo dire io è che purtroppo i clic non ci sono in tutta Italia e non fanno le stesse cose. L'Italia è lunga, quello che succede in Romagna non succede in Calabria o in Piemonte o in Trentino. Ecco che sarebbe importante questo ragionamento che faccio adesso, cioè che ogni ASL, ogni ASL, come abbiamo detto al convegno sull'inclusione poche due o tre settimane fa per portare la proposta di legge alla dottoressa Leoni che sta stilando, che stava stilando, non so se continua ancora questo impegno, la nuova legge sull'inclusione. Un genitore ha detto quando nasce un disabito in una famiglia c'è una botta che bisogna far passare anni prima che si riprenda. È importante che ogni ASL abbia un'equipe che valuti multidisciplinare, che valuta il caso, accompagni la famiglia, prescriva l'ausilio e piano piano valuti in itinere cosa succede. Un'equipe formata da un aeropsichiatra, psicologo, fisiatra, tecnico della riabilitazione, perché sennò si rischia che chiunque arriva a contatto col bambino prescriva qualcosa. Alla fine l'insegnante di sostegno dice ma compriamo un tastone, andiamo al CTS, ma non è il nostro ruolo, ci vuole un'equipe, ognuno faccia le sue cose, allora le cose funzionano bene. E viva Dio che non sia il negozio che vende ausili, che prescrive, perché prescrive quello che ha nel magazzino e che deve vendere, ma è normale che sia così. Quello che conosce, non quello che potrebbe essere più adatto per un'abilità motoria che si rischia di perdere nel tempo. Chi ce lo dice? Ce lo dice il fisiatra, ce lo dice il neuropsichiatra, ce lo dice lo psicologo? Allora, dobbiamo chiedere che nella nuova legge, con forza, ogni ASL metta a disposizione l'equipe multidisciplinare. Nel Veneto, per esempio, nella mia ASL ho cercato io di vedere se c'è un'equipe, c'è privata, quella pubblica, non è così, il neuropsichiatra fa il suo certificato, il psicologo fa il suo, lo passa a quell'altro, nel frattempo è passato un anno e sappiamo cosa vuol dire in età evolutiva un anno, il bambino cambia, alla fine non c'è un ragionamento, un accompagnamento della persona disabile e della sua famiglia dandogli una prospettiva di sviluppo. Ecco, io ho visto che tanti CTS danno, ho incomodato d'uso di attrezzature, ecco, non può essere che il CTS dica usa questo, usa quell'altro, magari con questo vai meglio. Il dettaglio può esserci, l'aiuto per l'esperienza, però la fondamentale scelta la deve fare un'equipe multidisciplinare. Questa è una proposta forte che mi sento di fare. E poi questa è una proposta mia che quando mi capita di avere un palco la faccio perché non ne posso più come insegnante di sostegno di vedere i consigli di classe fare degli atti formali che si chiamano PAY, PDP, PAY, BESS, questo è normale, no questo sì, no questo è stracomunitario, questo non lo so, tante scatole dentro un consiglio di classe che decidono la strategia didattica. Secondo me è ora di finirla, bisogna partire dal piano inclusivo di classe, le attività didattiche all'interno di un'azione inclusiva complessiva, dentro quello grande scatolone del piano inclusivo di classe come un'armonia, si sviluppa il PDP, si sviluppa il PAY, si sviluppa l'azione per il BESS, si sviluppa l'azione per quello che non so che può darsi che venga, perché oggi le classi fra BESS, PDP, ADHD, Borderline, Asparger, i normali sono 4-5 su 20, perché sta aumentando, la fatica di stare a scuola enormemente. Quindi io grido con forza questa cosa, rivediamo la questione dei piani didattici all'interno di una scatola che è il consiglio di classe, all'inizio dell'anno il consiglio di classe si dovrebbe sedere e dire cosa facciamo oggi, quest'anno, bene, queste sono le attività, queste sono la declinazione degli argomenti, cosa penso di mettere in piedi come modalità? Dentro questa modalità trovo un luogo per disabili, trovo un luogo per il BESS e così via. Non posso pensare che sia la casa editrice che mi risolva il problema con il libretto semplificato perché tu sei BESS, perché tu sei PDP, mi spiego, è una cosa che non sta in piedi, è chiaro ci vuole un po' di tempo di coordinazione, io speravo che la buona scuola rimettesse mano anche all'organico nel senso dell'orario di lavoro perché se si fa una buona azione frontale vuol dire che c'è alle spalle una buona azione di coordinamento, cioè non si può fare una casa se non la si pensa, non si può prendere sulla malta il cemento, la betoniera e gli strumenti di fare la casa se non c'è passato un bel po' di tempo a progettare, capire quali sono le risorse eccetera. Quindi era il caso che si mettesse mano all'orario di lavoro in termini non frontali, in termini di qualità sul pensiero di classe, se no c'è l'improvvisazione. Però perlomeno improvvisiamo in maniera diversa, cioè partiamo dalla classe, dal piano inclusivo e tiriamo fuori gli altri piani. Questo è un po' il grido nella nebbia che io lancio e continuerò a lanciarlo, vedremo se qualcuno lo ascolta, perché si rischia che fra un po' ci sarà il piano per i down, il piano per i mancini contrastati, il piano per tutti che vogliono un piano perché dico come ce l'hanno loro, lo voglio anch'io. Non funziona così. Bene, vi ringrazio per l'attenzione su questa mia conversazione che è stata un po' lunghetta e spero di riesce con voi in videoconferenza in presenza da Verona, da dove mi trovo in questo momento, per poter casomai interagire e ringrazio il professor Coradi e chi mi aiuterà ad essere presente con voi. Buona serata e buona partecipazione al convegno.